Buonasera a tutti, grazie a tutti i presenti, grazie ai relatori che sono Laura Fasanaro, Andrea Guiso e Gregorio Sorgonà e grazie soprattutto all'autore Umberto Gentiloni. Oggi presentiamo, discutiamo il suo volume, Storia dell'Italia Contemporanea, edito dal Mulino. È un volume uscito piuttosto di recente e che si presta molto, credo a un dibattito approfondito sulla storia della Repubblica Italiana, fino ai nostri giorni. Io mi limito a fare veramente due notazioni iniziali, poi passerò la parola ai relatori, pregando ciascuno di contenersi in circa 15 minuti, proprio intervento, sentiremo se ci sono delle domande, delle questioni e infine daremo la parola all'autore per la sua replica. Mi riservo però di usare il mio ruolo privilegiato per fare ulteriori osservazioni dopo che avranno parlato i relatori, questo per un mio interesse personale, realmente, a porre alcune questioni a Umberto. Per il momento mi limito a dire che il libro di Gentiloni è una sintesi molto efficace, a mio parere, di storia politica dell'Italia contemporanea, della Seconda Guerra Mondiale, dei nostri giorni, come dicevo, che a me pare basata su due tesi molto precise. La prima tesi è che la fase costituente all'origine della Repubblica lascia un segno di lungo periodo sulla storia italiana e crea un sistema politico capace di tenuta, perlomeno per alcuni decenni, diciamo. Poi c'è un momento invece più critico che è oggetto di riflessione, che sarà oggetto di discussione oggi, a partire dagli anni 70 in avanti. E tuttavia, diciamo, c'è una sottolineatura di questo nesso forte tra la fase costituente della Repubblica e il suo sistema politico fino al momento del crollo dei partiti di massa. Il secondo punto che a me pare degno di nota, tra molti altri naturalmente, queste sono già osservazioni soggettive, naturalmente, del libro di Umberto, è la messa in discussione di visioni storiche gravitanti attorno al tema, l'idea dell'anomalia italiana e nelle sue diverse varianti, che sono molte, e quindi, diciamo, non mi provo nemmeno a riassumerle. C'è invece uno sforzo dell'autore, dichiarato, di inserire la storia d'Italia in una più generale contesto di storia dell'Europa e di storia internazionale. Ciascuno di questi due punti, naturalmente, può aprire diverse possibilità di svolgimento e interpretazione. E questo, naturalmente, è una questione anche molto aperta, se vogliamo, nel libro. Il libro di Umberto non è un libro assertivo, è un libro problematico, sotto entrambi i profili che io ho ricordato. Ciascuno di questi due profili rimanda, a mio parere, ad un nesso che è molto sottolineato nel libro, soprattutto nella sua parte iniziale, e cioè il nesso tra la dimensione nazionale e la dimensione internazionale, a partire da quella che Guido Formigoni ha definito la duplice fase costituente della Repubblica. Quindi, l'accento sulla narrazione che non può essere autoreferenziale, come talvolta è accaduto alla nostra storiografia, sulla storia d'Italia, ma invece deve tenere conto di interazioni, interdipendenze, vincoli, opportunità, condizionamenti e quant'altro legati appunto a questo nesso, al nesso internazionale, nazionale e internazionale. Anche qui, diciamo, è una questione che può essere svolta attraverso le categorie che ho appena ricordato, soprattutto quella dell'interdipendenza, in modi molto diversi. Uno di questi è certo che è presente nel libro e che mi pare particolarmente importante è il nesso tra la storia della Repubblica e la storia della Guerra Fredda. Umberto nota la sovrapposizione, diciamo, tra queste due questioni, la storia della Repubblica, tra le due vicende, diciamo, la storia della Repubblica e la storia della Guerra Fredda, il crollo post-89 e se non altro sincronico con la fine della Guerra Fredda, poi quanto abbia a che fare o non a che fare con la fine della Guerra Fredda è in materia di discussione. Però forse mi sono già spinto troppo oltre il mio ruolo di maestro di cerimonie, e perciò mi fermo.